Ciao, sono Alessandro Dorlando, psicoterapeuta, autore di libri di crescita personale, di audiolibri e videocorsi di crescita personale. Ho creato questo canale per distribuire gratuitamente a più persone possibile delle conoscenze che secondo me sono centrali per il benessere dell'individuo e per il benessere quindi anche sociale della collettività. Non tutti possono permettersi una psicoterapia eppure gli elementi che emergono, le conoscenze che emergono nella psicoterapia sono di credibile valore per migliorare l'esistenza di tutti. Perciò ho pensato di creare questo canale per darti la possibilità di avere diverse informazioni facili, diversi strumenti facili di utilizzo, potenti, perché tu possa migliorare sul piano delle relazioni, la relazione con te, la relazione con gli altri e anche perché tu possa essere ancora più felice della tua vita. Ci sono quindi dei video in cui discuto di argomenti specifici nell'arco di 5 minuti, 10 minuti, ci sono conferenze che ho trattato, ci sono presentazioni di progetti, ci sono interventi, conferenze anche online di persona, quindi tutti i contenuti che sono di importante valore, che sono di valore per cambiare in meglio la tua vita, che possono essere per te motivo di ispirazione, che possono darti una direzione di approfondimento, ulteriori curiosità per continuare il tuo percorso di crescita personale. Quindi se sei una persona che vuole mettersi in discussione, che vuole, se sei una persona che vuole avere informazioni che possono migliorare la propria vita, la propria relazione con se stessa e con gli altri, questo è il canale che fa per te e iscriviti e metti un like e segui il link nel disclaimer qui sotto e potrai quindi accedere a tutti gli aggiornamenti, a tutta le news che saranno su questo canale e nei siti collegati a questo canale. Benvenuta, benvenuto e grazie per avermi seguito fino a qui.